Chi mi segue da un po' sa che il mio anime preferito è senza dubbio Heidi. Heidi vede la collaborazione di Isauta Kahata e Hayao Miyazaki, insomma non parliamo di fuffa. La scrittrice non è che sia di importanza internazionale, non ha mai partorito opere famose quanto Heidi. Il romanzo è importante solo perché è uno di pochi a trattare certi temi sociali dell'epoca ma non è mai stato un capolavoro, nemmeno Shirley Temple è riuscito a dargli un po' di fama. Il cartone animato è ciò che davvero ha portato questa storia al grande pubblico, insomma, tanto per iniziare grazie a Miyazaki che ha inventato di sana pianta a nebbia il San Bernardo, ad un personaggione, aiuta il pubblico e Heidi a interagire col nonno. Non credi che al posto di un cane così grosso si potrebbe averne cinque piccoli? E poi invenzione dell'anime sono anche le figure della nonna di Peter, dell'intero personaggio di Peter, che nel libro serviva solo a rompere carrozzine, così anche Sebastiano e soprattutto la signorina Rottenmeier. Amo la signorina Rottenmeier! No, non sono pazzo, cioè, forse sì, ma questo non ha nulla a che fare con questo. Per chi non conoscesse la storia, Heidi è una piccola bambina che vive in un paese svizzero alla fine del 1800. Il padre schiatta clamorosamente, la madre pure, e la piccola resta con la nonna materna e zia Deit. Quando pure la nonna passa all'altro mondo, zia Deit è una ventenne in carriera che non vuole avere una bambina di cinque anni in mezzo alle scatole, così cerca il parente più prossimo e l'abbandona lì. Heidi si ritrova così col nonno, personaggio magnifico, il vecchio dell'Alpe odia il paesino, in cui non si fa altro che parlare male di lui. Dicono che sia un pedofilo. Ma Heidi ci si affeziona, vivono nuova vita nella natura, con le caprette, tanta gioia, ma quella deficiente patentata di zia Deit torna a Dorfli, torna alla baita e Oh, nonno caro, dammi la bambina che adesso ha otto anni e ancora non sa leggere perché l'ha abbandonata su una montagna desolata, in attesa della morte, perché andava a battere per le strade di Francoforte in Germania, perché questo che sono, una zaccola! Già, perché zia Deit ha trovato lavoro a Francoforte, ma brutta bastarda egoista che non è altro decide di vendere Heidi a una famiglia tedesca altoborghese spacciandola per una dodicenne ariana che sa leggere! Peccato che non solo la strappa alle sue care montagne con l'inganno, ma la abbandona, signore e signore, sua altezza imperiale Adolf Hitler con la vagina, venduta a fare da animaletto domestico ad Anna Frank, Heidi si ritrova nelle grinfie della signorina Misericordia, una governante del secondo Reich, che tratta Adeleide come se fosse una... Oh, aspetta, una bambina di otto anni! Quando da piccolo vedevo Heidi in tv, ovviamente odiavo la governante come tutti quanti voi, crescendo però ho iniziato a intuire che qualche incongruenza c'era con quello che pensavo. Allora, 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 vediamo un po' il punto di vista della signorina Rottermeier. Tu sei una governante che deve a tutti i costi mantenere una certa presenza per non essere licenziata dalla tua famiglia borghese. La figlia del tuo padrone, Clara, ha la polio, ha perso la madre e il padre, buono come il pane, va a Cuba a scoparsi le noci di cocco e ti lascia fare da babysitter alla bambina più noiosa di tutta Francoforte. Così decidono di darti una collega, una bambina che, in cambio di vitto e alloggio, dovrà fare compagnia a Clara. Ma ci sono ovviamente dei requisiti, non qualsiasi bambina può fare da compagnia a una ragazza ariana. Deve avere l'età di Clara per iniziare, ovvero 12 anni. Ne ha 8. Deve aiutare a fare i compiti e quindi avere il suo stesso livello di istruzione. Ma Heidi non solo non è a livello e non sa cosa sia la chimica, ma non sa nemmeno leggere. Clara è figlia della famiglia Sesemann e se vuole avere un futuro deve avere un'istruzione. Deve essere altolocata, disciplinata o non potrà competere con le figlie delle altre famiglie. Clara è già svantaggiata in quanto disabile e farà molta fatica a trovare marito o un lavoro nella Germania industriale. Heidi viene abbandonata dai Sesemann e la signorina Rottenmeier è già buona nel darle comunque la possibilità anche se è un pericolo per Clara. In quanto pastorella svizzera, Heidi ha bisogno solo di saper mungere le capre, di evitare la vipera e riconoscere la legna verde da quella da ardere. Non ha motivo di seguire le mille regole dell'alta borghesia per tenere la schiena dritta e bere te e kartoffeln con il barone di Munchausen. Però la signorina Rottenmeier non lo sa. Heidi è stata venduta da zia stronzaggine come una cittadina e non come una pastorella. La signora Rottenmeier non ha scelta, la deve accettare, ma il contratto non è a termine. Se Heidi è assunta è una proprietà di Clara fino ai suoi 21 anni e Clara ne ha 12. Heidi quindi deve adattarsi per forza alla vita di Francoforte. Quindi deve chiamarsi Adelaide perché se non vuoi essere rapito e venduto per fare Wüster devi sembrare qualcuno di importante e non un'orfanella che puzza di capra. Bisogna bruciare i suoi vestiti perché arrivano dalle Alpi e portano malattie, malattie a cui Clara non è immune. Non può uscire di casa, figuriamoci le Alpi. Siamo nel 1800, non c'è la mucchina. Se vuoi liberarti di batteri e virus, devono bruciare. Devi imparare a leggere e in fretta o non potrà seguire le stesse lezioni di Clara e rendere quindi Clara svantaggiata rispetto alla concorrenza delle altre famiglie. Devi imparare a comportarsi a modo o quando Heidi finirà il suo servizio per Clara non troverà mai lavoro per un'altra famiglia. Devi evitare di portare gatti in casa o la signorina Rottenmeier muore perché ha la combo allergia-fobia che con la carta trappola unboxing epico finito malissimo diventa un'arma letale. Inoltre, la signorina Adolf è la governante e se Clara dovesse per sbaglio starnutire davanti al medico sbagliato verrebbe incolpata e licenziata per poi ottenere la fama di ammazza disabili e non trovare più lavoro in nessuna parte della Germania. Se non è tutto perfetto, è colpa della Rottenmeier. Ricordati bene, la signora Sesemann qui è la padrona di casa e quindi tutti noi le dobbiamo molto rispetto, chiaro? E se tu non ti comporti come si deve tutto ricadrà su di me. Allora, tanto per iniziare, i signori Sesemann non sono mai a casa il che rende i loro incontri con Heidi e Clara occasionali non la seguono giorno per giorno poi la signorina Rottenmeier non è mai cattiva gratuitamente come zia Date o quella baldracca di Tinette Oddio, come sei stupida ma solo quando rischia effettivamente di essere licenziata, per esempio In questo modo deve averla proprio tormentata quella povera creatura Ma l'ho fatto solo per amore di sua figlia Ma allora non si è resa conto che anche ad Heidi io voglio bene come ad una figlia? Che? A quella lì? La nonna e il padre possono scorreggiare in cucina e non vengono licenziati da nessuno quindi ha senso che la signorina sia così preoccupata perché certo, i signori Sesemann regalano giocattoli ad Heidi e si presentano vestiti da orso oh, sono molto simpatici per un bambino che guarda la serie ma è anche vero che se da un lato si deve giocare dall'altro serve pure la Rottenmeier che insegna un po' di disciplina Nel remake del 2015 dove Heidi è fatta in CGI la signorina Rottenmeier rivela di essere stata partorita e cresciuta in montagna proprio come Heidi e di essersi adattata a una vita di città dovendo rinunciare ai suoi monti in questa serie odia Heidi perché le somiglia le ricorda ciò che lei non è potuta essere ma nell'anime di Takahata invece fantastico pessimista la signorina è nata e cresciuta francoforte ma è che la signorina Rottenmeier è piuttosto simile al canarino di Clara all'interno della serie il canarino è un punto cardine dello stesso colore di capelli di Clara è un regalo che le è stato fatto per tenerle compagnia un uccellino in gabbia l'uccellino in gabbia non può volar via è prigioniero ovviamente è un parallelismo con Clara come l'uccellino non può volare Clara non può camminare quando però Heidi arriva francoforte e lo vede non capisce il motivo di rinchiudere un animale e quindi lo libera l'uccellino vola via e va fuori dalla finestra Clara teneva il piccolo canarino e così la signora Rottenmeier ha perso in furia sembra impossibile spiegare ad Heidi che il canarino era felice così com'era che non sa vivere per conto suo e che una volta liberato morirà di sicuro a sconvolgere Heidi però è il fatto che dopo poco tempo il canarino ritorna nella sua gabbia per una sua libera scelta per lui è una vita più comoda ed è anche l'unica che conosce vero è in gabbia potrebbe uscire volare ed essere libero con gli altri uccellini ma lui non è come Heidi anche Heidi in gabbia ovviamente ma lei è stata catturata e portata in città l'uccellino invece nella sua gabbia c'è nato e cresciuto in questa serie infatti di questo che si parla di gabbie la gabbie di Clara è la sede a rotelle ci vuole tornare non vuole essere indipendente perché conosce solo quella vita ha sempre avuto tutti i comfort e non sa che cosa si perde a non saper correre e non sa nemmeno che cosa dovrebbe aspettarsi vedendo Heidi però riceve lo stimolo che le mancava e in una vita di montagna trova finalmente la sua libertà di movimento la gabbia di Heidi invece è francoforte ma lei lo sa e lo capisce da subito la gabbia della signorina Rottenmayer è di nuovo francoforte ma proprio come l'uccellino lei è nata e cresciuta nella sua gabbia e ci tornerà sempre non ha invidia per chi vive nella natura lei vuole solo tornare nella sua gabbia e per questo sembra cattivo perché vorrebbe portare Clara con lei perché la signorina è genitrice di Clara più dei signori Sesaman lei l'ha cresciuta e lei se ne è preoccupata per questo piange quando la deve abbandonare in montagna perché sa che la sua Clara non tornerà mai più per questo odia Heidi perché gliela può portare via e alla fine ci riesce pure l'amore della signorina per Clara è infinito e inizia ad amare anche Heidi quando sembra adattarsi a francoforte in realtà vuole molto bene alle bambine ma è vittima della sua società lei non ha avuto scelta vive nella sua gabbia come un canarino e fuori dalla sua gabbia muore e all'improvviso il meglio per Clara è fuori dalla gabbia la signorina però deve restare dentro e resta dentro e per sempre e tutta sola questo è il drama di Heidi la serie è vista dal punto di vista di una bambina che ha a che fare con un mondo adulto che lei non può più influenzare un mondo adulto che sarà per sempre così e così Heidi salva Clara ma non può salvare nessun altro la signorina Rottenmayer è un uccellino in gabbia per cui è troppo tardi e morirà in gabbia guardate che cosa le hanno fatto questo è il 1800 ma vedete anche il suo punto di vista in questo modo siamo nel 1800 non esistono concetti come l'inquinamento o i vegani questo perché l'uomo sta a malapena entrando in un'epoca moderna e non c'è ancora questa fissa per il ritorno alla natura che giustamente abbiamo oggi nel 2000 abbiamo un'idea della natura come pura originaria ancestrale pulita molte delle persone che vedranno questo video vanno nella natura quando cercano una vacanza ma non la conoscono davvero conoscono la natura dei documentari dei film dei libri ma non la natura reale per la signorina Rottenmayer la città è sterilizzata pulita fatta per l'uomo e sicura mentre la montagna no a Francoforte l'estate è aria calda più vacanze e zanzare a Dorfli l'estate è vipere mortali tuoni e fulmini che ammazzano bestiame rischio di incendio e siccità a Francoforte l'inverno è il caminetto in casa la giacca se si esce a Natale a volte la neve gli alberi spogli e un raffreddore ogni tanto a Dorfli le case hanno una porta al secondo piano perché le case sono sommerse dalla neve per mesi i tetti cedono sotto il peso della neve il cibo non arriva più dalla valle l'acqua si congela in casa e non si trova niente da mangiare non si può scendere dalla montagna e c'è pure un rischio di valanghe per Heidi l'inverno è una slitta e l'estate è un pascolo ma per un adulto sono malattie rovi strapiombi pericolosissimi lascereste rotella tutta sola in un posto dove ci sono pendii discesi e dirupi ovunque? la lascereste da sola con un bambino pastore analfabeta in alta montagna durante un temporale? no non lo fareste ma dovreste perché questo significa imparare ad essere autosufficienti ma credo capiate perché la signorina debba rompere i coglioni e certo che sta antipatica a tutti è l'unica a mettere regole in una casa dove nessuno ha un minimo di buonsenso infatti l'unica persona di cui la signorina ha rispetto in montagna è il nonno il nonno è l'unico vero saggio che mette regole e dà libertà per conto suo il nonno è un personaggio che può essere considerato il più maturo di tutti e le uniche a capirlo sono Heidi e la signorina Rottenmeier e qui finalmente si capisce perché abbia lasciato che zia Date portasse via Heidi perché sapeva che alla fine non era detto che la montagna fosse fatta per lei e solo la città poteva assicurarle una vita migliore un'istruzione il nonno è l'unico a dire chiedi ad Heidi che cosa vuole fare mentre il vero errore della signorina Rottenmeier è quello di non permettere mai a nessuno di fare errori per conto proprio penso che la serie di Heidi sia straordinaria e la signorina Rottenmeier è uno dei personaggi effettivamente più interessanti e più belli da vedere si sente Miyazaki in Heidi si sente Takahata e si sentono tutti i grandi nomi che ci hanno partecipato Heidi è davvero un cartone animato straordinario solo che è un peccato che in America non abbia avuto tutto questo successo e comunque ditemi anche voi avete odiato zia Date più di quanto abbiate odiato la signorina Rottenmeier vero